Buonasera ragazzi, questa sera un burger extra extra large Un bel panino per gli hamburger Un po' di maionese Lattuga Pomodori Cipolla La mettiamo bene un po' dappertutto Maxi hamburger Cheddar Bacon Per finire Un po' di ketchup E voilà Pronto Ve lo lascio Un po' così per vedere il risultato finale Eccolo qui Buon appetito Ottimo Buona serata a tutti Ciao raga Ciao Buonasera 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 Buonasera